Al compresso monumentale di Marsala si inaugura oggi il congresso regionale del Partito Socialista Italiano con noi Nino Oddo, onorevole Nino Oddo, che ci racconta cosa farete oggi di interessante in questo rinnovamento congressuale. Oggi, nonostante le condizioni meteo non particolarmente favorevoli, i socialisti stanno pacificatamente invadendo Marsala. E questo congresso l'ho voluto a Marsala, perché Marsala non è una città qualunque, è una città che gronda socialismo, che ha scritto belle pagine, i socialisti hanno scritto belle pagine, qui dando tanti sindaci, intestandosi anche opere pubbliche importanti. E quindi ho voluto... Quindi ricordi Pietro Pizzo? Pietro Pizzo, non solo, qua c'è Luigi Sciacca, vi sono altri sindaci che credo abbiano lasciato un bellissimo ricordo, altri purtroppo non ci sono più e quindi ho voluto fortemente questo congresso qui a Marsala. Credo che a Marsala congressi regionali di partiti politici io non ne ricordo, quindi è un riconoscimento, è un fatto importante. Il dato politico più rilevante è la presenza di tutte le forze politiche di opposizione oggi a Lars, divise in tre tronconi. Noi proporremo, io proporrò, che si faccia una larga convergenza. Ecco, quel campo largo di cui si parla a Roma... Quell'unione che fa vincere. Esattamente, quantomeno ci rende competitivi rispetto a una destra... E già fa vincere, è fatto di essere competitivi. Rispetto a una destra che qui in Sicilia ha fallito, sta fallendo perché Schifane rispetto all'esperienza musumeci dimostra che sulla sanità, sui rifiuti, sulle infrastrutture, sui finanziamenti europei, su tutti gli asset più importanti continuiamo a scontare un ritardo con il resto del Paese. Questo ritardo non lo superiamo e occorre che quindi si prepari un'alternativa politica che, ripeto, mette insieme tutte le energie e le risorse oggi in campo, soprattutto se ci saranno anche presto le elezioni provinciali. Le europee meno, perché le europee sono col sistema proporzionale, ognuno va da solo. Ma già le provinciali, se si voterà nel 2024, come è molto probabile, occorre che ci sia uno schieramento compatto che nelle singole province presenti una proposta politica che ebbe un filo conduttore. Senti, l'importanza di ridare valore alla provincia, perché tutti avevamo pensato di toglierla pensando che fosse un carrozzone da battere. In realtà il carrozzone è rimasto perché le persone che lavoravano sono rimaste tutte. Solamente la politica è venuta meno che, non dando la possibilità al territorio di potersi muovere in maniera autonoma, accentrando tutto il potere alla regione, si è creato dei problemi nel territorio molto significativi. Esattamente. Le province si era sottovalutato il senso di appartenenza dei cittadini. I cittadini, sia col referendum, ma anche nell'accezione pubblica, avevano fortemente il senso provinciale. Era un ente intermedio che però era sentito dalla gente, non solo. Ma le funzioni che erano proprio della provincia in questi anni di limbo non sono state utilizzate da nessuno. Le strade provinciali e le scuole provinciali sono in dissesto, quindi occorre ripristinarlo. Io credo che questo sia stato uno degli errori di cui, con onestà intellettuale, bisogna riconoscere le colpe anche al governo Crocetta, che si intestò questo abbattimento di questo ente a distanza dei 10 anni. Io credo che i socialisti, per la verità, non erano convinti neanche allora. Ma il centro-sinistra è convinto che assolutamente bisogna ritornare alle province con l'elezione diretta a soffraggio universale. Onorevole Bobbo Graxi al Marsala per il congresso regionale di un partito in pieno rinnovamento. Questo è importante per noi perché noi non riusciamo a scavalcare l'ostacolo elettorale, eppure i socialisti, come si vede, sono sempre vivi, in piedi, pronti a battersi. C'è naturalmente fiducia che questo possa avvenire, di poter contare di più per aiutare di più. I grandi problemi del nostro paese, ma se guardo la Sicilia non posso non vedere i grandi problemi della Sicilia. Sono stati abili a fare le elezioni anticipate, il governo di centro-destra è già abbastanza esangue, e noi dobbiamo ricostruire una posizione, ci metteremo del tempo. È un po' come la cucina, la politica ci vuole tempo per fare dei piatti che possono essere commestibili, però noi ci stiamo... Magari raffinati. Una vecchia tradizione come la nostra non smette mai di avere delle ragioni per vivere, specie se esiste un problema di giustizia sociale, se esiste un problema di protezione del nostro ambiente, se esiste un problema di protezione delle nostre donne. Oggi è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. e io conosco molto bene il che sono stata vittima di un attentato otto anni fa. Quindi la domanda che si pone in questo caso è cosa può fare la politica, perché si sta chiedendo tanto alla scuola e anche alla famiglia, però alla scuola e alla famiglia si danno poche risorse. Quello che avviene nella nostra società è impressionante, questo è chiaramente il prodotto di una crisi, di una crisi profonda, è una crisi sociale profonda e quindi i partiti, se hanno un radicamento nella società, debbono tornare a svolgere il loro ruolo. Quindi non è una questione di parte, è una questione di evoluzione della società. Se la società fa un passo indietro significa che non siamo stati capaci di comprendere e capire che esisteva un'emergenza. In questo ci aiutano naturalmente le donne, senza essere naturalmente e inutilmente ideologici in questa che consideriamo una piaga di una società moderna, di una società che soffre, di una società che dimostra di avere... Di un maschile che soffre anche? No, penso che si sia... Ha perso un po' di identità? No, penso che si sia molto equivocato nell'idea che la società non avesse fatto dei passi in avanti. Non si accetta l'idea della parità di diritti, non si accetta l'idea che le donne possono avere ruoli apicabili. E questo purtroppo è un problema che riguarda tutte le classi sociali. E se incominciamo a insegnare come... Non come si vive, ma come si rispetta il prossimo. Quando si è più piccoli o bambini si rispetta il prossimo. Si rispettano le donne, si rispettano gli immigrati, si rispettano i più poveri, si rispettano i più anziani. Però bisogna dare l'esempio. La politica deve dare l'esempio, certo. Però su questo punto mi taccio, perché non tutto è andato un buon esempio. Antonio Consentino è il segretario comunale del Partito Socialista, molto impegnato anche sulle femminile, ed è stato protagonista insieme ad altre donne, lui uomo, e quindi è importante che ci sia un uomo avvocato, protagonista di un'associazione che verrà presentata anche questa sera e che proprio vuole prestare ascolto alle donne da tutti i punti di vista. Un ascolto attivo, un ascolto quindi dal punto di vista psicologico, ma anche dal punto di vista legale. Sì, intanto sono orgoglioso e onorato di aver portato il congresso regionale del Partito Socialista italiano a Marsala. Basta guardarsi attorno, io credo che oggi si sta verificando la rinascita del Partito Socialista in città, città che, come tutti sanno, ha radici profonde proprio del PSI. Abbiamo effettivamente costituito questa società, abbiamo fatto l'atto costitutivo, lo statuto, e le donne sono impegnatissime in questa società, e oggi noi provvederemo a presentare questa associazione, non è fa parte della giornata, anche perché non dimentichiamolo, oggi il 25 di novembre ricorre la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e quindi quale migliore occasione di questa per poter presentare un'associazione che certamente già ha dato modo di lasciare intendere come vorrà impegnarsi in quest'ambito. Per quanto concerne il Partito Socialista, siccome si voterà nel 2024 per le provinciali, quasi sicuramente, voi vi state preparando? Ti ringrazio per la domanda, perché noi abbiamo cominciato per tempo, stiamo facendo già delle riunioni periodiche tra i partiti della corruzione centro-sinistra, e ci stiamo organizzando. L'aspirazione massima sarebbe quella di riuscire a formare una lista forte per il Consiglio Comunale, al fine di poter dire la nostra, e anche avere voce in capitolo per quanto concerne appunto la scelta del candidato sindaco. Quindi sostanzialmente io ritengo che stiamo ripartendo, più che mai, il Partito Socialista è presente ed è bene che tutti lo sappiano. Il leader di Sud Chiama Nord, il sindaco della bellissima Taormina, il grande, perché sa parlare a braccio e sa parlare al cuore della gente, Catero De Luca. Questa sera al congresso regionale del Partito Socialista per riunire tutto il centro-sinistra, i comini di buon senso. Per mettere assieme uomini e donne di buona volontà rispetto a un governo che non è tanto per quanto mi riguarda il governo delle destre, è il governo dello sfascio. E quindi la necessità di fare rete tra tutte quelle forze politiche che vogliono liberare questa terra da una cappa politico-mafiosa che la continua a tenere come ultima regione d'Europa sotto il profilo dello sviluppo economico e sociale e che costringe le giovani generazioni ormai a scappare e a non ritornare più. E quelli che scappano ottengono dei buoni risultati altrove, però appunto non ritornano più. Ma quelli che restano hanno perso la fiducia nella classe politica. Come dare fiducia ad una classe politica che crede nei giovani e che punta sui giovani? Abbiamo questa responsabilità e di conseguenza abbiamo proprio la necessità di riuscire a fare un sistema alternativo. D'altronde, se guardiamo i dati degli ultimi 30 anni, purtroppo vediamo che gli stessi soggetti che ancora sono al governo hanno condizionato questa terra. I giovani devono oggi avere fiducia in una classe dirigente che in questi anni ha dimostrato di non voler mangiare la mela del peccato e ha pagato anche duramente quella che è stata la presa di posizione contro questi trasversalismi, contro questi sistemi. Noi siamo l'esempio di un'alternativa che oggi dobbiamo concretizzare in termini politici e sono convinto che la prossima occasione per noi rappresenterà un momento storico per ridare credibilità alla nostra terra e far ritornare chi è stato costretto a scappare. Ci sono due momenti elettorali molto importanti, quello che riguarda le province ma anche quello che riguarda nuovamente le elezioni europee. Come si sta preparando il partito di Cateno De Luga? Stiamo lavorando ad un'intesa nazionale per definire quella che è una strategia che ci consenta di superare quelle che sono le forche caudine dello sbaramento del 4%. Ovviamente stiamo facendo dei ragionamenti con forze politiche che sono all'opposizione del governo Meloni e del governo Schifani perché la coerenza non si compra al supermercato. E questo ci porterà a definire anche nell'ambito del collegio Sicilia-Sardegna delle candidature che avranno un'espressione per avere anche un collegamento operativo con quelle che sono i sistemi europei con i quali piaccia o non ci piaccia ci dobbiamo assolutamente confrontare. E questo significa anche completare quello che è stata una strategia di un'attraversata nel deserto che abbiamo iniziato il 18 marzo 2007 e che ora ci vede in questo momento anche come la prima forza politica in Sicilia. Ancora senso fare le fazioni tra destra e sinistra o è meglio prendere gli uomini buoni dell'uno e dell'altro e riunirli assieme. La buona amministrazione non ha colore politico. Chi ancora adotta le geometrie in politica lo fa perché ha bisogno di alibi. Quindi non ci sono discussioni su questo e l'ho detto anche questa sera chi ama la nostra terra non può avere il pregiudizio politico non può coltivare il pregiudizio politico l'amministrazione è in colore se fai bene, se bravo non ha importanza da dove provieni dipende quello che fai e cosa sei all'altezza di rappresentare e spero che questo messaggio sia condiviso da tutte quelle forze politiche che non hanno condiviso il percorso di questo governo Schifani ed ovviamente non condividono quelli che sono i disastri che continuano a regalarci. È facile o difficile cambiare l'incapacità della politica di trovare persone alternative e ricandidare sempre gli stessi come nel caso della regione vince il centro-destra ma con un passato enorme con un bagaglio anche non bello? Noi in Sicilia scontiamo la mancanza di un'alternativa credibile sotto il profilo del risultato di governo cioè una fascia di elettorato siciliano continua a votare centro-destra perché non vede un disegno credibile alternativo questa è oggi la questione magari il risultato che c'è stato il 25 settembre 2022 dove mi hanno visto arrivare secondo hanno magari delineato quello che dovrebbe essere il prototipo di un'alternativa a questo sistema ma bisogna avere la maturità di pensarla assieme tutte quelle forze politiche alternative al centro-destra io non ho mai nascosto qual è il mio sogno politico quello di governare di amministrare questa terra di fare il sindaco di Sicilia ma nonostante il risultato del 25 settembre 2022 mi ha individuato comunque come l'esponente che sul campo si è meritato il ruolo di leader dell'opposizione sono pronto a rimettere in discussione anche questa posizione in un'ottica di creare un vero amalgama che ci porta uniti e ci faccia acquisire quella credibilità agli occhi di quei siciliani che cercano un'alternativa a questo sistema ma ancora non l'hanno individuata io come esponente della comunicazione mi sono fatto l'idea Cadeno De Luca non ha non vinto perché non preparato perché non alternativo perché non capace ma perché molti cittadini hanno avuto paura di credere nel nuovo e si sono rifugiati nel vecchio ecco come sradicare questo? diciamo che Cadeno De Luca che oggi amministra la quinta comunità perché fatto il sindaco in cinque territori diversi ha dimostrato di sapere amministrare ed è cresciuto sulla scorta dei risultati della buona amministrazione e quello che era un fenomeno provinciale nella provincia di Messina a un certo punto ha avuto la ribalta in ambito regionale e tanti segmenti dell'elettorato siciliano non credevano che questo risultato si potesse affermare con questa entità perché è la prima volta nella storia della Sicilia che una lista civica sfida tutti i poli e riesce a non essere velleitaria ma a raggiungere un risultato così incredibile ecco e allora io parto dal presupposto che oggi ci siamo sdoganati che i siciliani hanno ben compreso che ci sono le condizioni per un'alternativa e hanno ben compreso che ci sono uomini e donne che già per storia vissuta soprattutto nei palazzi municipali hanno quella stoffa per poter riscattare la nostra terra di questo lo sono fermamente convinto ma si comincia a respirare un'aria nuova devono solo comprenderlo alcuni personaggi che magari preferiscono fare gli oppositori di professione perché amministrare significa sporcarsi le mani significa faticare significa prendersi delle responsabilità significa anche mettere alla prova se le tue idee sono corrette ed è ovvio che c'è una parte purtroppo di soggetti che condizionano le forze politiche che preferiscono fare gli oppositori di professione perché è più comodo l'ultima domanda Catena De Luca negli anni ha dimostrato con le sue manifestazioni anche molto platearie anche molto insomma come si dice fantasia pittoresche pittoresche ecco però ha fatto delle battaglie vere per esempio ricordo quella durante il covid che bloccava chi entrava in Sicilia ma era il 23 marzo del 2020 avevo io cercato l'allora presidente della regione nell'omusumeci spiegandogli che quel provvedimento che aveva preparato Conte ma soprattutto le regole che aveva da questo punto di vista diffuso la Lamorgese erano delle regole farlocche che avrebbero causato una grande diffusione in Sicilia con la situazione che già si era determinata poche ore prima abbiamo ancora il ricordo dell'assalto ai treni che ha provocato anche l'effetto annuncio del governo Conte musumeci non è voluto venire e io mi sono trovato a quel punto a dover smascherare quello che era un sistema che era metteva in pericolo non solo i siciliani ma anche coloro che venivano e quel 23 marzo del 2020 io ho rischiato l'ultero e l'arresto perché è ovvio che ho sfidato lo Stato e era stata anche avviata una procedura per la mia decadenza probabilmente qualcuno avrà consigliato al governo di fermarsi perché vi immaginate in quella circostanza la sommossa che ci sarebbe stessa ma poi accadendo non manca il coraggio ma quello assolutamente l'ho dimostrato sempre perché un uomo e una donna senza coraggio non possono pensare di proporsi alla guida di una comunità quindi il coraggio è fondamentale diversamente come dico spesso io è meglio che cambi mestiere grazie